Musica Buonasera e ben ritrovati in diretta in questa nostra edizione del telegiornale, l'ultima della giornata. L'apriamo con un aggiornamento riguardante la cronaca del territorio regionale perché nella serata un uomo, se saputo, una camionista straniero, è stato trovato morto nel parcheggio delle ferriere Nord a Rivoli e di Osoppo. Oltre a queste informazioni le uniche che fino al momento è stato possibile ottenere confermate non ne abbiamo ottenute altre sia da parte dei carabinieri di Tolmezzo che hanno aperto indagini su quanto è accaduto proprio per accertare quanto è successo né ulteriori dettagli sono emersi dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine che ha ricevuto la chiamata di intervento in loco intorno alle 19.15. Si sa dunque che un uomo, un camionista straniero, è stato trovato morto nella serata dunque nel parcheggio delle ferriere Nord a Rivoli e di Osoppo. Nei nostri prossimi spazi informativi contiamo di darvi un aggiornamento rispetto alla situazione in cui è stato trovato e a quanto ovviamente è successo. Parliamo anche di un altro fatto di cronaca di cui si sta ovviamente molto parlando in queste ore. Cavo tranciato e mancato funzionamento del sistema frenante di sicurezza sono questi, come riassume l'Ansa, i due punti cardine dell'indagine aperta dalla Procura di Verbania per accertare le cause della tragedia della funivia del Mottarone in cui ieri hanno perso la vita 14 persone tra cui due bimbi. Unico sopravvissuto il fratellino di uno dei due bumbi deceduti che ora ha ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il Procuratore della Repubblica, Olimpia Bossi, ha aperto formalmente un fascicolo per omicidio colposo plurimo, disastro colposo commessa in pericolo della sicurezza dei trasporti e lesioni gravissime. E nelle prossime ore, come riferisce ancora l'Ansa, non appena il quadro delle società e degli enti coinvolti nella gestione e anche in manutenzione dell'impianto sarà preciso, si procederà alle iscrizioni nel registro degli indagati. Questo è un atto dovuto come primo passo di un'inchiesta tecnica necessario per poi procedere con una consulenza che avverrà con la forma dell'accertamento irripetibile. A Stresa, nel frattempo, è stato proclamato il lutto cittadino, oggi il nulla osta per i funerali delle 14 vittime. Crescono intanto le speranze per il bimbo di 5 anni sopravvissuto. Non è ancora fuori pelicolo, anche se c'è da parte dei medici un cauto ottimismo sull'evoluzione delle sue condizioni. Parliamo ora del Presidente del Consiglio Mario Draghi che a Bruxelles è per la riunione straordinaria del Consiglio Europeo in programma fino a domani. Tra i principali punti all'ordine del giorno, Covid-19, migranti, rapporti con la Russia e il Regno Unito, i cambiamenti climatici, ma anche la Bielorussia perché il dirottamento del volo Ryanair a Tenevilnius costretto a terrare a Minsk e l'arresto del giornalista dissidente bielorusso Rahman Protasevich sta scatenando la reazione di tutta l'Europa e anche ha messo in fibrillazione la Nato. Convocati gli ambasciatori bielorussi nei diversi Stati membri, tra cui anche l'Italia e il Regno Unito, serve una risposta molto forte alla Bielorussia contro questo dirottamento completamente inaccettabile. Lukashenko deve capire che questo atto non può restare senza conseguenze. Questo è quanto ha affermato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, proprio entrando al vertice di Bruxelles. Ursula von der Leyen, che ha inoltre annunciato il pacchetto da 3 miliardi di investimenti pronto ad andare dall'Unione Europea a Minsk, resta congelato finché il Paese non diventerà democratico. Da fonti europee si è preso inoltre, questo stando a quanto riferisce Tgcom24, che la Presidente Ursula von der Leyen intenderebbe proporre ai leader europei anche una no-fly zone della Bielorussia per tutti i voli da e verso l'Unione Europea e anche i sorvoli. Il Segretario Generale dell'ONU, Gutiérrez, dal canto suo ha detto di appoggiare le richieste di un'indagine completa, trasparente, indipendente sulla deviazione degli aeropasseggeri sulla Bielorussia. Noi, proprio in merito a questo caso, rivediamo anche un servizio a cura dell'Ansa. La strategia della tolleranza zero contro gli oppositori, varata da Lukashenko dopo la primavera bielorussa iniziata quasi un anno fa all'indomani delle ennesime elezioni truccate, questa volta pare aver travalicato i confini nazionali pur di mettere le mani su Roman Protasevich, ex direttore del canale indipendente Nexta, voce dell'opposizione bielorussa. Il giornalista era in viaggio su un volo Ryanair da Atene a Vilnius quando l'aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Minsk dove Protasevich è stato arrestato poiché figura nella lista dei ricercati per terrorismo ed estremismo del Paese. Immediate le reazioni, Bruxelles ha subito chiesto l'immediata liberazione del giornalista e della fidanzata arrestata insieme con lui sul tavolo del Consiglio europeo eventuali sanzioni, convocato l'ambasciatore bielorusso dall'alto rappresentante dell'Unione europea Borrell. Per Mosca sono scioccanti le accuse dell'Occidente mentre la bielorussia respinge ogni accusa è stato il comandante dell'equipaggio a decidere di far atterrare il volo a Minsk senza pressioni esterne dopo essere stato avvertito di un'allarme bomba afferma il capo dell'aeronautica bielorussa. Il direttore del Dipartimento dell'Aviazione del Ministero dei Trasporti sostiene che all'aeroporto nazionale di Minsk sarebbe arrivata una mail di minaccia di Amassa. Una teoria che non convince il sospetto della compagnia aerea è che a bordo si trovassero agenti del servizio di sicurezza bielorusso per quello che il CEO Ryanair, Michael O'Leary, ha definito un sequestro di Stato da parte di Minsk. Veniamo ora alla situazione coronavirus in Italia perché il paese è per la prima volta tutto in zona gialla. L'ultima regione che era rimasta in arancione la Valle d'Aosta ha infatti raggiunto con oggi le altre 19 che da una settimana hanno iniziato a contare i giorni che le saperanno dall'inizio di giugno data in cui il primo giugno come riassume l'Ansa quelle che avranno mantenuto per tre settimane un'incidenza di 50 casi ogni 100.000 abitanti e un rischio basso saranno in zona bianca. Tra queste stando alle previsioni anche il Friuli Venezia Giulia. Da oggi dunque in Italia tutta Italia è possibile spostarsi senza autocertificazione senza alcun certificato dunque si può pranzare e cenare fuori all'aperto o andare al cinema o teatro. Con oggi inoltre hanno riaperto i propri spazi interni le palestre come previsto nella roadmap definita dal decreto del 18 maggio dopo mesi in cui ci si è allenati in casa o all'aperto. Guardando agli ultimi dati diffusi attraverso il portale del governo i contagi risultano in costante calo così come i ricoveri nelle terapie intensive nei reparti ordinari. 2.490 sono i positivi in più rilevati rispetto a ieri a fronte di quasi 107.500 test per un tasso di positività oggi pari al 2,3%. 110 invece sono i nuovi decessi che portano il totale di inizio pandemia a 125.335. 276.439 sono invece le persone attualmente positive delle quali 1.382 sono in terapia intensiva e 8.950 nei reparti ordinari. Anche in Friuli Venezia Giulia la situazione come detto risulta in miglioramento non si sono registrati i geccessi rispetto a ieri e solo due risultano i nuovi contagi rilevati. Alla luce dell'evolversi della situazione anche l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sta riorganizzando l'attività nei reparti e anche sta programmando le ferie del personale. Noi sentiamo come si è espresso ai microfoni della nostra Francesca Santoro in diretta nel nostro Tg delle 19 e Denis Caporale proprio direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Mentre il governatore Fedriga sta ragionando sulle linee guida per le riaperture con prudenza che scatteranno dal primo giugno quando il Friuli Venezia Giulia dovrebbe diventare zona bianca anche gli ospedali si stanno preparando a questa riorganizzazione. Com'è la situazione all'ospedale di Udine? Ci stiamo riorganizzando nel senso di riapertura anche noi per noi la riapertura significa attività e quindi la nostra attività che naturalmente deve tenere in considerazione anche attività già programmate attività di recupero di sospese in precedenza. Diciamo che il tutto deve in qualche maniera combinarsi anche con quello che è un periodo estivo e solitamente il periodo estivo per noi prevede già una riduzione dell'attività e quindi per far esufruire i nostri lavoratori i nostri dipendenti che sono parte fondamentale della nostra attività è importantissima alcune attività naturalmente non potranno essere recuperate al 100% quindi avranno dei tempi un po' più lunghi. Oggi avete avuto un incontro con i sindacati proprio per affrontare la questione delle ferie in quanto si tratta di conciliare appunto il diritto dei lavoratori alle ferie con il fatto che bisogna ripartire. Ovviamente immagino che sarà stata una di una serie di riunioni che non abbiate insomma deciso niente di definitivo oggi ancora. Devo dire che è stato un incontro interlocutore interessantissimo nel senso costruttivo sia per noi che penso anche per le organizzazioni sindacali. Abbiamo trattato vari temi varie problematiche sicuramente quella delle ferie è un problema che come dicevo deve essere considerato assieme alla riapertura però cercheremo di assicurare a tutti quanti i lavoratori il periodo di ferie di cui hanno diritto. Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale come siamo? Come sta procedendo? La campagna vaccinale sta procedendo a ritmi elevati sicuramente condizionata sempre dal numero di dosi che questa azienda così come la regione ha a disposizione arriviamo sempre al giorno prima della consegna con un numero limitatissimo di dosi quindi i nostri interessanti sono quelli degli hub vaccinali che abbiamo naturalmente aperto già da tempo assieme a questi hub vaccinali in questo momento sono entrati nell'attività di vaccinazione anche i medici in generale che stanno facendo un importante lavoro quindi siamo arrivati a una percentuale di popolazione siamo arrivati a un terzo popolazione vaccinata con almeno una dose al 33% e quindi diciamo che stiamo procedendo con ritmi elevati quindi questa distribuzione sul territorio degli hub vaccinali sta funzionando si sta rivelando una buona strategia sì anche i dati rispetto ai singoli distretti ci presentano una sorta di omogenità rispetto alle persone vaccinate diciamo che ci sono uno massimo due punti di differenza tra di popolazione vaccinata tra i singoli distretti questo è importante perché significa che anche le attività vaccinali fatti all'interno non solamente degli hub ma all'interno anche di questi centri che noi consideriamo itineranti ha dato una risposta al territorio e ha dato la possibilità anche ai singoli di vaccinarsi vicino a casa e anche i dati del contagio dimostrano come la campagna di vaccinazione stia funzionando oggi risultano soltanto due nuovi contagi risultato di 1413 tamponi molecolari test rapidi antigenici tasso di positività scende quindi lo 0,14% non si registrano nuovi decessi il totale delle vittime resta 3778 gli isolamenti scendono a 5166 le terapie intensive restano ferme a 9 mentre i ricoveri ordinari sono 58 uno più di ieri e a proposito di vaccinazione andiamo anche a vedere l'ultimo aggiornamento del report disponibile online che parla di 31.234.102 somministrazioni finora effettuate e 10.357.791 persone finora vaccinate ossia persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Friuli Venezia Giulia si parla di 650.516 dosi somministrate rispetto alle 722.155 consegnate per un rapporto percentuale pari al 90,1 nelle scorse ore si è parlato anche del ministro per l'innovazione Vittorio Colau che ha annunciato che in vista dell'entrata in vigore il primo luglio del Green Pass europeo sia il certificato che attesterà lo stato di salute relativo al Covid-19 dei cittadini europei ecco Colau ha detto che il pass sarà a disposizione degli italiani su Io la app della pubblica amministrazione verso metà giugno saremo pronti ha detto Colau e dal primo luglio partirà dunque così riferendosi al Green Pass giornata di tensione sul tema blocco dei licenziamenti che si è conclusa stando a quanto riferisce l'Ansa con la conferma del blocco solo fino a fine giugno e dunque senza proroga tra sindacati e Confindustria e scontro CGL e Cislewil definiscono inaccettabile e socialmente pericolosa la posizione della Confindustria che si ostina appunto dicono i sindacati che si ostina a rifiutare la proroga del blocco dei licenziamenti in questa fase il blocco dunque resta fissato come detto al 30 giugno salta dunque la proroga al 28 agosto per le aziende che avessero chiesto la cassa integrazione Covid dall'entrata in vigore del decreto sostegno sbissa entro la fine del prossimo mese confermata invece la possibilità per le imprese di utilizzare la cassa integrazione ordinaria dal primo luglio senza spiega ancora l'Ansa senza dover pagare le addizionali fino alla fine del 2021 con l'impegno a non licenziare per tutto il periodo in cui ne usufruiscono cambiamo argomento ancora rintracci in Friuli Venezia Giulia tra la scorsa notte e stamattina sono infatti stati individuati oltre 100 migranti irregolari l'assessore regionale alla sicurezza Roberti ribadisce la necessità di un confronto con il ministro dell'interno mentre il commissario di governo Valenti sarà ricevuto alla camera dalla commissione Schengen 70 migranti sono stati rintracciati nella notte in zona Udine Nord e portati per le verifiche sanitarie la ex caserma Cavarzerani in mattinata altri 34 sono stati individuati mentre transitavano sulla carreggiata che dal rio Ospo porta a Montedoro sulla strada statale 15 numeri che spingono l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti a ribadire la richiesta di un vertice urgente con il ministro dell'interno è opportuno che la conferenza delle regioni interpelli direttamente il ministro dell'interno per comprendere quali siano le intenzioni dell'attuale governo in tema di immigrazione ha detto l'esponente dell'esecutivo regionale rimarcando che in Friuli Venezia Giulia dal primo gennaio al 10 maggio stiamo registrando un aumento che si attesta attorno al 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente il commissario di governo del Friuli Venezia Giulia e prefetto di Trieste Valerio Valenti che mercoledì sarà a Roma per essere ascoltato in commissione Schengen alla Camera ribadisce abbiamo un fenomeno crescente degli arrivi su Udine rispetto a Trieste e Gorizia e si è modificato il fenomeno dei minori non accompagnati perché adesso rispetto all'anno scorso sono molto piccoli sempre a causa della rotta balcanica in Friuli Venezia Giulia 75% delle persone scomparse risulta minorenne contro una media nazionale del 50 in base ai dati della questura di Trieste diffusi in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi i minori si allontanano quasi sempre volontariamente delle strutture a cui sono affidati in seguito al rintraccio da parte delle forze dell'ordine e stamattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel Quirinale i sindaci di Gorizia di Nova Gorizia il Capo dello Stato ha confermato che visiterà le due città in autunno e insieme questo al suo omologo sloveno sentiamo in autunno verrò a farvi visita insieme al Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pakor perché Gorizia e Nova Gorizia rappresentano un laboratorio di collaborazione europea di grande valenza che va sostenuto in ogni iniziativa queste le parole con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto stamattina in Quirinale i sindaci delle due città Rodolfo Ziberna e Clement Miklavic la data non è ancora definita ma si potrebbe trattare del 27 ottobre a 100 anni dalla scelta del milite ignoto come già fatto in varie occasioni tra cui il suo messaggio di fine anno Mattarella ha poi ribadito suo grande apprezzamento per il lavoro svolto dalle due amministrazioni per la conquista del titolo di Capitale Europea della Cultura 2025 nell'incontro si è parlato anche di economia ovvero del progetto Zese sulle politiche di defiscalizzazione della zona confinaria abbiamo rappresentato i sentimenti di gratitudine di tutto il nostro territorio per il viace sostegno che ha dimostrato nei suoi diversi interventi insieme anche al collega Paco grande notizia ha confermato che in autunno la data è ancora da destinarsi naturalmente la condivideremo in autunno perciò l'insieme al presidente Paco verranno a Gorizia un altro un altro momento importante abbiamo parlato anche di economia abbiamo parlato anche di zona economica speciale europea anche a suo avviso potremmo individuare tra Gorizia e Novo Gorizia un vero e proprio laboratorio anche di natura economica e fiscale un laboratorio che possa servire anche a tutta Europa grazie presidente Egan Bernal ha vinto per distacco la sedicesima tappa del Giro d'Italia numero 104 la tappa da Sacila Cortina D'Ampezzo frazione accorciata 153 km questo a causa delle cattive condizioni del tempo il colombiano ha perciò incrementato il proprio vantaggio nella classifica generale ed è sempre più maglia rosa dicevamo pioggia molto intensa e percorso accorciato sono queste le regioni per cui come detto la tappa è partita questa mattina con una quarantina di minuti in ritardo la partenza infatti era prevista per le 10.50 ed è slittata alle 11.30 però il pubblico non è mancato nella città Liventina noi sentiamo le parole dell'assessore regionale allo sport Gibelli e anche del sindaco spagnolo che ha dato il via alla gara lo sport è un fattore di attrazione forte soprattutto il ciclismo che è da sempre vissuto come lo sport più popolare insieme al calcio d'altra parte poi questa è una terra di ciclisti e lo dimostra anche quello che ha preparato Sacile che ha fatto una settimana di eventi preparatori coinvolgendo anche le scuole che hanno lavorato sul tema del Giro d'Italia ed è anche una vetrina formidabile per le nostre bellezze io credo che Sacile avrà uno sprint in più così come tutto il territorio che il Giro ha attraversato da qui in poi e che questo sia un bel segnale per dire ricominciamo la città si è preparata ma questo è il vero punto di ripartenza dopo un periodo di grandi chiusure per noi è stata l'occasione di creare le sinergie anche con il territorio i comuni limitrofi abbiamo realizzato gli eventi preparatori con grande energie con grande entusiasmo e con la collaborazione di tante realtà associazionistiche di volontari di tante persone anche i commercianti della nostra città che hanno saputo dare grande impulso e grande collaborazione perché la piazza la città e il territorio fossero preparati quindi un'occasione straordinaria sulla quale insomma abbiamo investito e grazie anche alla regione che ha creduto nel territorio e ha consentito appunto la partenza da Sacile quindi direi qualcosa di veramente straordinario da qui partiamo anche con le riaperture del nostro territorio e ci auguriamo insomma che le cose vadano sempre nel migliore dei modi sentiamo ora il bilancio rispetto alle tre tappe che hanno coinvolto anche il territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso appunto le parole del presidente del comitato organizzatore delle tappe locali Enzo Cainero molto positivo lo dicono gli altri non devo dirlo io recepisco le indicazioni le sensazioni di chi ha vissuto queste tre giorni parlo di spettatori di popolazione di istituzioni e di addetti ai lavori diciamo che era sapevo che era una tre giorni molto impegnativa che avrebbe chiesto la collaborazione di tanta gente di tante persone così è stato l'abbiamo portato alla fine io ne sono molto molto contento abbiamo unito il mare la montagna cittadine bellissime come Sacile dove mi dispiace piova però c'è tanta gente è stato uno Zoncolan più difficile del solito quello di quest'anno sì più difficile di tutti i miei 18 anni però con tutta onestà devo dire che il risultato la partecipazione mi ha ripagato in modo notevole e ha ripagato il lavoro dei volontari delle persone che mi sono state vicine archiviato lo Zoncolan archiviamo Sacile però il grande ciclismo femminile tornerà in Friuli Venezia Giulia a breve sì noi adesso due tre giorni per fare riprendere un po' di lavoro professionale poi ci ributtiamo nell'organizzazione del Giro d'Italia femminile che avrà ben tre tappe venerdì sabato e domenica 9, 10 e 11 di luglio prossimo venturo e sarà una cosa sicuramente molto interessante molto bella poi è una gara l'unica gara al mondo di questo prestigio cosa c'è nella testa di Enzo Cainero per il prossimo anno? al prossimo anno dovrebbe essere già fatto adesso pensiamo al 2023 più avanti però bisogna arrivarci fino lì perché gli anni corrono come le ruote delle biciclette non le puoi fermare non hanno i freni e andiamo ora alle nostre flash news stavo andando al lavoro a piedi quando è stato investito da un'auto che si metteva in un parcheggio è accaduto in quarantenne stamattina feletto Umberto in via Fermi all'altezza della pizzeria alla rotonda alla guida della vettura c'era una donna di 40 anni di Udine il malcapitato ha riportato diversi traumi tanto da dover essere portato in ospedale a Udine sul posto oltre ai sanitari da 118 anche la polizia locale scontro frontale tra due auto alle 13.30 circa di oggi a Zoppola secondo i rilievi effettuati dai carabinieri una delle due vetture avrebbe invaso la careggiata opposta i vigili del fuoco di San Vito e Tagliamento hanno provveduto la messa in sicurezza dei mezzi e dato supporto al personale sanitario sul posto con due ambulanze e l'automedica entrambi i conducenti sono stati portati in ospedale per accertamenti due serbe una di 29 e l'altra di 25 anni sono state sanzionate dalla polizia di Trieste per aver violato la normativa antipandemica fermate e identificate dal personale della squadra volante in via Totti alle 23.40 le due giovani non sono state in grado di dare giustificazione sulla loro presenza in strada a quell'ora due donne una di 42 e l'altra di 54 anni sono state invece multate dai carabinieri per essersi rifiutate di indossare la mascherina all'interno dell'ufficio postale di Tricesimo si è vista strappare la borsa e portare via anche la valigia è successo poco prima delle 6 del mattino di oggi in via l'Europa Unita a Udine a una donna residente in città appena scesa dal treno e diretta verso la stazione delle Corriere il giovane ladro che ha così sottratto alla donna tutti i documenti e anche denaro contante è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce indagano i carabinieri ancora furti in provincia di Udine a Codroipo sabato i ladri hanno preso di mira un'abitazione in via Ricci dopo aver forzato una porta finestra hanno messo a soquadro la casa per poi rubare alcuni elettrodomestici e due biciclette il danno ammonta 2.500 euro a Santa Maria la Longa i malviventi hanno rotto il finestrino di un'auto parcheggiata in paese per rubare una borsetta contenente cellulare portafogli e altri effetti personali su entrambi i furti indagano i carabinieri veniamo ora al calcio terminata la stagione con la pesante sconfitta contro l'Inter l'Udinese inizia a mettere i ferri in acqua per la prossima stagione è previsto in settimana l'incontro tra la società e il mister Gotti proprio per delineare il futuro della guida tecnica un finale così proprio non ci voleva specie alla vigilia di un avvenimento importante come gli 80 anni di Giampaolo Pozzo nella scopola subita per mano dell'Inter c'è la fotografia della parabola discendente intrapresa dall'Udinese nei due mesi conclusivi di questo campionato una formazione che a metà marzo poteva ambire a consolidare se non migliorare il decimo posto e che invece si è progressivamente smarrita incassando ben otto sconfitte altrettanti rigori nelle 11 partite successive e avanzando così di sole 7 lunghezze solo il Parma in questo lasso di tempo è riuscito a fare peggio con un solo pari a fronte di 10 sconfitte ovviamente nessuno all'interno dello spogliatoio avrebbe voluto terminare così in sordina e lasciare in espresso così tanto potenziale resta però il dubbio che una volta raggiunta la salvezza in tutta tranquillità nella testa dei bianconeri si sia insinuato un senso di appagamento inconsapevole e che di conseguenza non si sia creduto fino in fondo nel nuovo traguardo posto da Parompozzo quello di piazzarsi nella parte sinistra della classifica sarebbe stato forse quello il regalo di complanno più gradito ma a questo punto guardarsi indietro non può cambiare le cose si pensa già piuttosto alla squadra che verrà con molti giocatori che ieri hanno di fatto disputato la loro ultima gara in bianconero il primo tassello comunque non potrà che essere quello della guida tecnica in settimana mister Gotti e vertici del club si siederanno attorno a un tavolo per un primo confronto tra le parti dopo che per la prima volta negli ultimi sei anni l'udinese ha iniziato e concluso il campionato con lo stesso allenatore la squadra intanto ha ricevuto rompete le righe definitivo dopo aver ricevuto ieri sera di rientro da Milano il vaccino anti-covid segnale questo di grande attenzione nella lotta la pandemia da parte del club bianconero diventato il primo in Italia ad aver vaccinato l'intero gruppo squadra e siamo in chiusura prima di salutarci come sempre andiamo a scorrere a scoprire assieme le prime pagine giunte fino a questo momento in redazione allora iniziamo con il giornale leggiamo questo titolo i sabotatori di draghi trame rosse tasse diritti licenziamenti altro che Salvini è la sinistra di Letta a destabilizzare il governo ma il premier a fadiga comunali italiani coalizione unita ovunque libero solita Italia non si sa di chi è la funivia scarica Barile sulla strage la sindaca di Stresa l'impianto è ancora della regione manca un timbro c'è speranza per il piccolo Eitan salvato dalla braccia del papà morto vergogna i francesi esultano per le vittime questo libero la verità fuori la verità sulle spese di arcuri tra i dispositivi farlocchi e banchi a rotelle da rottamare stavolta una commissione parlamentare di inchiesta potrebbe essere la chiave giusta per fare chiarezza l'ex commissario gode di uno scudo verso i giudici contabili ma gli italiani hanno diritto di sapere intanto scrive la verità i PM sentono il capo di gabinetto di speranza ancora il foglio andiamo a vedere il titolo evidenziato in rosso due populismi sui migranti sull'immigrazione europeisti sovranisti hanno una linea comune è colpa dell'Europa è davvero così? superare i dualismi farlocchi tra aprire tutto e fermare tutto si può quattro svolte per Draghi queste dunque le prime pagine arrivate fino a questo momento vi rimando però come sempre all'appuntamento con la nostra segna stampa a partire dalle 7 di domani in cui potrete confrontare le altre prime pagine dei giornali che saranno in edicola e ovviamente approfondire tante informazioni in più sul territorio locale ovviamente anche nazionale e internazionale grazie ora siamo davvero in chiusura e vi salutiamo con Accade Oggi buonanotte il 24 maggio 1962 nasce a Catanzaro Massimo Mauro attaccante fantasista dell'Udinese dal 1982 al 1985 Mauro è cresciuto nella formazione del Catanzaro con lui giocava anche il fratello maggiore Gregorio ha debuttato nella massima categoria nell'aprile del 1980 nella gara contro il Milan persa per 3 a 0 è stato lanciato da Tarcisio Burnic allenatore della formazione calabrese e sempre con il Catanzaro ha militato sino al 1982 per poi passare come detto all'Udinese ha fatto parte della formazione di Zico nel 1983-84 io ricordo che in quel campionato sovente l'allenatore Enzo Ferrari lo sostituiva in corso d'opera e quel provvedimento a mio avviso giustificato non era piaciuto era stato criticato da parte dei fan bianconeri la stagione migliore comunque di Mauro in terra friulana è quella 1984-85 perché è stato forse l'uomo in più dell'Udinese ha segnato 5 pesanti reti ha dato un contributo per tenere a galla la squadra che sovente è stata orfana proprio di Zico Mauro in seguito è passato alla Juventus con cui ha disputato sino al 1989 102 gare di campionato quindi al Napoli dove ha concluso la sua carriera nel 1993 Mauro ha vinto due scudetti 85-86 con la Juventus poi 89-90 con il Napoli e sempre con il Napoli ha vinto anche la Supercoppa italiana e nel 1985 anno del suo debutto con la formazione juventina ha vinto anche il titolo intercontinentale non ha mai giocato però con la nazionale maggiore una volta appesi gli scarpini al Classico Chiodo si è dato la politica nella formazione dell'Ulivo ed è stato eletto deputato in Calabria nel 1996 poi nel 2001 è diventato anche consigliere comunale di Treviso poi è passato al Partito Democratico ma io voglio ricordare di Mauro anche la sua concreta partecipazione alla lotta contro la SLA assieme a Gianluca Viali ha fondato la Onlus Gianluca Viali Massimo Mauro proprio per combattere la SLA la SLA Grazie a tutti.